I medici del CTO stanno facendo di tutto per salvare Concetta, la donna che nelle scorse ore intorno a mezzogiorno di martedì si è data a fuoco qui all'interno della sede IMSS di Torino Nord. Concetta è intubata e si temono forti compromissioni soprattutto per quanto riguarda le vie respiratorie e inoltre è molto alto il rischio di infezioni. Oggi vado all'IMS e li faccio tutti neri o viola. Questo il post scritto dalla 46enne di Settimo Torinese prima di recarsi negli uffici di Corso Giulio Cesare. Un'esistenza tranquilla quella di Concetta fino a gennaio quando nella sua vita era piombato l'incubo della disoccupazione dopo licenziamento dalla birreria in cui faceva le pulizie, pochi soldi perché il lavoro era part time ma che le permettevano comunque di sbarcare il lunario. La donna si era allora rivolta al sindacato, aveva impugnato il licenziamento e chiesto all'IMS l'indennità di disoccupazione. Per ottenerla mancava un semplice certificato medico, un disguido che ha ritardato l'erogazione del sostegno economico e ha portato Concetta alla disperazione e al tragico gesto allo sportello dell'IMS. Pochi istanti di terrore, lei che chiede informazioni sulla sua pratica, poi un urlo, non ce la faccio più, l'alcol addosso e le fiamme.